ciao amici ciao amiche yeah ben ritrovati su cani coppia Davide e Chiara Channel stasera mega buffata con questo po po di insalata russa che mi hanno lasciato poi polenta e coniglio con i cingli invece ragazzi come non mi piace il coniglio mi sa poco schifo prendo maggio due cordon blu pocchettino di melanzane faceto è stata russa del settimo e un quarto e da stamattina che siamo dietro abbiamo sistemato i pigiami della signora perché ne ha pochi le lenzuola un sacco di cose e abbiamo appena finito di farvi l'albero di natale che vedrete nel suo blog colpiamo ancora allora un po di polenta molto buona polenta buonissima coniglio che è veramente tenerissimo cucinato alla perfezione ragazzi funghi porcino funghi non so che sono funghi sono il bustone il bustone quello congelato tutto l'ho fatto non lo so beh comunque sono buoni i funghi questo mi sa che non è che ce ne sono tanti devo dire che è veramente buono ragazzi rimane solo l'ultima cosa due cose mancano il presepe e ad attaccare la ghirlanda alla porta e poi forse domani mia moglie vi farà vedere il mio regalo di natale è una cosa che piace che gli piaceva farredo non posso spoilerare questo è il primo mucca bianco sfondo il frigo nuovo l'avete visto ma poi abbiamo deciso di mettere sopra il frigo la lanterna poi vi faremo vedere un blog mas e la giornata è finita finalmente perché non ce la faccio più perché mia moglie quando fa l'albero quello dell'uomo è niente per quanto riguarda gli addoni non c'è tanto che non c'è il collo del blu che non c'è tanto Lei non c'è tanto io non c'è tanto questa è la polenta balzugana non sapevo che ti faccio tutto questo effetto vai a prenderla no 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 qui è tutto rossa ecco speriamo che non porta neve se no siamo fregati colina è finita vediamo la polenta un pezzo di colombolo avanzato buonissimo buonissimo mmm buonissimo buonissimo e buonissimo vi buonissimo buonissimo mmm siamo quasi arrivati alla fine ragazzi un po' d'acqua bella fresca un po' di acqua finito bene amici spero che questo mukbang vi sia piaciuto che vi abbia fatto compagnia nel pranzare o cenare con me mi raccomando quando mangiate guardate questo mukbang e mangiamo in compagnia io vi saluto vi auguro una buona serata iscrivetevi iscrivetevi ad entrambi i canali agli instagram e niente vi auguro una buona serata un bacione vi saluto io ciao